La mia vita è perché sono appassionato di questo lavoro, ho cominciato da bambino e quindi ne ho fatto... fa parte della mia vita, non potrei fare altro lavoro io, perché mi piace, mi appassiona, l'adoro, è la mia vita. La mia vita è molto semplice, la mia vita è molto semplice. Se lo fai con la mano, è semplice. Tutto che facciamo è semplice. Che stile? Vecchia scuola napoletana, molta morbidezza, poca spallina, quasi niente. Quando più morbide, molta elasticità nei movimenti. Non deve essere una camicia e forza, deve essere una cosa piacere da tenere addosso. E' un'ottima risposta di montare, è la mia vita. La scuola ha fatto un rinco sullo. La scuola ha fatto una lunga e che ne ha volto più di scema, questo è il modo di da fare È un'ottima risposta di che, dunque, anche quali le stature di potere, è una scuola di più altra, un po' più altra, e questo è due due motivi. E' un'ottima risposta di fare un'ottima ma anche un'ottima scuola. E' un'ottima risposta di fare un'ottima risposta, Quindi quando i ritori erano i loro loro, i loro potrebbero leanne avanti. La voce ritorna è un po' più altissima. E' un po' più altissima. E' un po' più altissima. Chiffonini size speciale, con una piccola chiave, con una altra armata. Siamo lavorando molto sul fronte, sul fronte. Abbiamo molto semplice, semplice. Quando mettere un sacco sul cliente, bisogna dire, wow, non è flato. Quindi si senti qualcosa. Se succederebbe. Se succederebbe in questo sport, quando mettere un sacco sul fronte, si dice, wow, è ok. In fronte del mirror, il cliente è felice, e si è felice per il sacco, questo è il più importante. Quando è flat, è wrong. I like to read him first, just chit chat, just socially, basically. Try to find something out about his lifestyle. So then, when I've got that basic knowledge, I can then advise him on his fabric, and then we start talking about silhouettes, and this, and that. Once you actually put something on them that represents your style, you've then got a very good starting point. Invariably, if their eyes light up, they become very enthusiastic about what you're doing. So when I'm cutting my pattern, I know where that little roll of flesh is there that shouldn't be there. I know lots of things. So between all those points, I can then start to create something very beautiful for this client. and a half a bit more different there. Grazie a tutti.